Allora Lucchese, le parole di saluto le hai fatte, le hai fatte, il tuo mister, ho sentito delle belle parole, soprattutto quel dire che gli brucia aver perso... L'anno scorso ha un rimpianto, ci sta, ci sta perché è stato un momento in cui c'eravamo e pensavamo di fare meglio di quello che abbiamo fatto, quindi brucia lui, brucia noi, comunque il calcio è anche questo, il calcio è anche questo, sono episodi che fanno le partite, quindi bisogna accettarle, è colpa nostra, gli episodi sono anche colpa nostra, quindi ci siamo fatti un esame e quest'anno speriamo di trovare un'aria diversa, l'aria è sempre stata, perché è sempre stato un bel spogliatoio, però cercare di essere più concentrati, avere ragazzi che ti danno il 100%, anche se non è che possiamo far colpi a quelli che non ci sono, quelli che abbiamo fatto una scelta, ma probabilmente sai, ruoli, infortuni e tante altre cose sono subentrate durante l'anno che hanno un po' condizionato il nostro cammino, ecco tutto là. Carlo Casagrande, DS e mister Marchetti, confermati, confermati, sono stati i primi a confermarli, mi dicevano che la società ha chiesto qualcosina in più, un qualcosina in più dal quarto posto vuol dire lì, insomma, vuol dire... No, vuol dire sopra il quarto posto, intanto che sopra il quarto posto, poi abbiamo fatto una squadra e noi crediamo che sia competitiva, poi sai, è il campo che parla, quindi le ambizioni ci sono per far bene, dopo se arriviamo, arriviamo e se no, l'importante è che abbiamo messo tutto il massimo impegno, questo che conta per la nostra società, dopo se succede episodi in cui non arrivi a certi obiettivi, pazienza, però l'importante è che abbiamo messo tutto quello che si poteva avere, che i ragazzi ci abbiano dato tutto, questo per noi è importante. Sottolineato un po' da tutti, è una grande famiglia. Sì, direi di sì, ma sai, è una grande famiglia perché è semplice, siamo dal 76 che sono io in questa società, siamo sempre le stesse persone, sono entrati altri, si sono amalgamati, è una città che nessuno lo fa per fare protagonista, anzi forse sono io un po' più protagonista di tutti perché magari mi si vede un po' di più e gli altri sono un po' meno, però in verità sono tutte persone oneste, limpide, quando si decide una cosa è quella non si cambia e questa è la forza di questa squadra, di questa società. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi, grazie.